Ok signori, ultimi giro e mezzo in live, vabbè, come al solito una gara dove tutti sono attaccati, vabbè, a parte Mochi, Alonso se n'è andato, vabbè, effettivamente anche Mugnoz, Fernandez e Holgado la stanno spuntando per il secondo posto solo loro e hanno lasciato tutti gli altri dietro. Oddio, stavano cadendo. Fernandez passa Mugnoz e Holgado un quarto, quindi Mugnoz, Fernandez e Holgado. Allora, però, diciamo, peccato per Nepa, vabbè, Alonso ha vinto, zitti i telecronisti. Allora, praticamente, Nepa ha avuto una stiga clamorosa, lui, doppio on-club, preso il come di squadra e poi vai lungo da solo, dai, che palle. Però c'è Lunetta, però è addirittura di nuovo settimo, c'è ripassato Lunetta e ha fatto un galone pure lui, che peccato. Mi sa che una vittoria di italiani non la vediamo, quest'anno non la vediamo, forse manco quest'anno, no, manco quest'anno, perché mi sa, pure l'anno scorso non abbiamo mai vinto. Che peccato, che peccato. Allora, sulla lotta per il secondo posto in campionato, penso che Weyre ormai è fuori, perché è diciannovesimo, mentre Holgado e Ortolà, ah no, Ortolà pure è fuori, quindi mi sa che la spunta Holgado. Ok, farà il record di Vittore Stagionali Alonso probabilmente, anzi senza probabilmente. Ah, più punti in Moto3 potrebbe fare Alonso. Adesso ci avevo pensato, madonna. Madonna, no, Holgado è entrato malissimo su Fernandez, l'ho lasciato proprio dietro, però poi ha passato pure Mugnoz, vabbè, penso si è guadagnato la seconda posizione di campionato, invece no. Va largo, lo ripassa Fernandez, madonna che lotta per il secondo posto fra Mugnoz, Holgado e Fernandez. Meravigliosa, meravigliosa. Ma adesso la spunta Fernandez, Mugnoz, Holgado, madonna che casino. Quindi Fernandez, Solgado, Mugnoz adesso. Ma lasciate stare Alonso che ha vinto un'altra volta. No, vabbè. Ma che c'entra degno di migliore australiano? Non è australiano, penso che hai capito male, non so cosa voleva dire. Ah, vabbè, sì, era Alonso, no, basta, vabbè, secondo me non era da dire, però adesso ci sono un po' stabili delle posizioni, e no, invece no, adesso lo porto. Infatti Mugnoz si infila, no, se no cadevano. Di nuovo ancora Fernandez secondo, Mugnoz terzo, Holgado quarto. Mancano due curve, no, tre, e Holgado si butta, no, oddio, arriva Nepa, arriva Nepa. Dal nulla arriva Nepa, che è quinto, se fa podio è un miracolo sportivo. Non ce la può fare, no, è impossibile. Manca una curva alla fine, non può arrivare sul podio, è quinto, c'ha davanti tre in moto. Involata però. Si fanno vedere Alonso. Ok, fa la storia Alonso. Quarto. Quarto. Eh, che peccato, stavo facendo l'impresa clamorò, il miracolo di Nepa, il miracolo di Nepa. Perché ho detto Moto3 World Champion ad Alonso adesso? Era dalla gara scorsa. Madonna che cazzo di gara. Mamma mia signore, mamma che cazzo di gara. Peccato per Nepa. Maledetto il compagno di squadra Nicola Carano che mi sa pure Italiano, mamma mia, che peccato. Vabbè, oggi la storia l'ha fatta la vida rosa. E questa volta... E questa volta...